Musica Sei in una zona controllata dal nemico, lasciala subito, la tua posizione è stata compromessa Nuovo caricatore! Un operatore alleato rimasto, il nemico sta per perdonare l'area Vittoria alla difesa, nemici eliminati Grazie bro, grazie 15 minuti Pergolus ricarico ultimo nemico rimasto E' troppo calmo Il drone è controllato dal nemico, lasciala subito Drone nemico in posizione per la scansione, avvio del timer Ok 1 2 l'quadro d'attacco ha eliminato i difensori 10 secondi il disinnescatore è di nuovo nostro ultimo nemico rimasto disinnescatore attivo proteggertelo a tutti i costi resta solo un operatore d'attacco la squadra d'attacco ha eliminato i difensori 15 secondi ultimo nemico rimasto i difensori hanno eliminato tutti i luci il positivo piattato il positivo in campo la squadra ultimo nemico rimasto in vita i difensori hanno eliminato tutti i luci hanno trovato una bomba la squadra è in una zona controllata dal nemico lasciala subito la squadra è in una zona controllata dal nemico rimasto in casa la squadra è in una zona controllata dagli